L'importanza della spiritualità nella vita delle persone, quanto è importante questa dimensione così sfuggente, così eterea e così intensa nello stesso tempo? Ne parleremo tra poco con uno scrittore, un regista, un videomaker, una persona che si ne intende parecchio anche di comunicazione che è Claudio Guarini, tra poco dopo la sigla. Eccoci qui con Claudio Guarini, lo definirei un esperto anche della comunicazione, se per comunicazione si intende anche la partecipazione interiore dell'io che è fondamentale, con la ragione, da soli, dove andiamo, da nessuna parte? Ciao, ringrazio te per avermi ospitato. La comunicazione, diciamo che per diventare un esperto in comunicazione uno dovrebbe imparare a sapersi ascoltare e poi saper se stesso e poi gli altri, quindi diciamo che un po' come tutti sono in una fase in cui cerco di comprendere sempre meglio come io sono fatto e di riflesso anche gli altri, quindi comunicare significa anche saper ascoltare prima di tutto. Poi hai detto una cosa abbastanza forte, ascoltare, che implica tutta una serie di condizioni sia interiori che esteriori, il mondo in cui viviamo non ci aiuta di certo a questa pratica, a questa prospettiva, perché comunque siamo catapultati all'interno di una realtà tecnicistica che ci impone il movimento, la corsa, la fretta, la frenesia, la rincorsa del tempo, l'insoddisfazione, la scontentezza, la paura e tutta una serie di cose che tu conosci benissimo, quindi come fare per riuscire a eliminare o comunque a diminuire questi ostacoli? Allora, più che ostacoli, diciamo che la mente dell'essere umano in genere è abituata vuoi per contesto sociale, vuoi per il contesto familiare in cui è cresciuta, quindi per tutti i condizionamenti che un soggetto, una mente, un bambino che poi diventa un adulto ha assorbito, quindi l'imprinting, il primo imprinting è quello familiare e di conseguenza quello sociale in cui cresce e vive. Ci sono delle situazioni che la mente del bambino, quindi il primo passo è l'infanzia, affronta con la mente che è quella di un bambino alla fine, quindi una mente, scusate, aperta a tutto, che assorbe tutto e nel momento in cui si trova ad affrontare un qualcosa che poi noi possiamo chiamare trauma, che può essere uno schiaffo, che può essere una violenza, che può essere un'attenzione non ricevuta, il bambino, la mente del bambino inizia a crearsi tutta una sua idea sulla realtà, un'idea su se stesso, un'idea sugli altri, su come interagiscono, è una percezione di che cos'è alla fine l'amore, perché il bambino alla fine desidera giocare, sentirsi amato, cerca un contesto che per lui è naturale, che è quello di un contesto di armonia, quindi quando c'è qualcosa che va come un petardo, interrompere quella continuità che per lui è tranquillità, è gioco, è felicità, spensieratezza, gioia, di là iniziano un po' i guai, quindi ognuno di noi poi mette in piedi una personalità che non corrisponde alla vera identità dell'essere umano, perché la personalità non è altro che una strategia che la mente del bambino, senza farlo opposta, mette in piedi, costruisce, con un pretesto inconscio di sopravvivere e di percepire quell'amore che da bambino non ha ricevuto, secondo quello che la mente del bambino dice o che realmente non ha ricevuto, quindi ad esempio ci sono tanti tipi di personalità, il primo che conosciamo perché in Italia credo che ce ne siano è quello dell'altruista, quindi colui che faccio tutto per gli altri, non ti preoccupare ti offro io il caffè, ci penso io, è sempre disponibile, ma in realtà che cosa accade? Noi abbiamo trovato all'interno dei gruppi di lavoro che portiamo avanti con le persone della scuola di counseling, delle situazioni in cui il maschietto in questo caso aveva la mamma che piangeva sempre, si lamentava, il papà non era presente, il papà era cattivo, questa mamma sofferente, quindi il bambino dice mamma impegnata o a litigare con papà o a piangere, papà non c'è, io qui per farmi ascoltare, per farmi vedere, per dire che esisto, cosa devo fare? Quindi ha cominciato, è un esempio questo, sostituirsi alla figura del papà, mamma ci penso io, mamma non preoccuparti, quindi è come se si fosse sostituito alla figura del papà e da figlio diventa un croce rossino barra fidanzatino di papà, quindi cosa accade? Che crescendo mette in piedi questa personalità dell'altruista, diciamo così, che nel momento in cui fai tutto per gli altri, ti vuoi mettere in mostra, ma dall'altra parte non c'è nessun riconoscimento, perché quello che voleva il bambino farsi, cioè sentirsi dire da mamma, bravo figlio mio, come sei utile, era una strategia per sentirsi amato, quindi se tu vai da un altruista e fa tante cose per te o tu gli dici non ne ho bisogno, nessuno te lo ha chiesto, non ho bisogno di te, quella persona impazzisce, te la ritrovi tutto il contrario di quello, scusatemi, che io chiamo falso buonismo, ma non è una colpa, quindi impararsi ad ascoltare, per giungere a questo, è imparare a capire come siamo fatti, ad ascoltare tutti i pensieri che portiamo dentro, ad ascoltare soprattutto quali pensieri sono realmente nostri, perché noi pensiamo che, pensiamo vedi, tutto ciò che ci arriva in mente è una nostra idea, è un pensiero autentico, pulito, ma in realtà la maggior parte di questi pensieri sono automatici e non sono, non contengono una verità, ecco, ma contengono un filtro della realtà, quindi ascoltare gli altri è una cosa che noi raramente facciamo e se tu, la tua esperienza ovviamente che anche tu avrai incontrato un bel po' di persone nella tua vita, ti sei accorta che quando qualcuno ti racconta qualcosa, quando noi raccontiamo qualcosa a qualcuno, non stiamo realmente pensando, o meglio, non stiamo ascoltando, stiamo pensando già la risposta da dare a quella persona in base a ciò che lui dice, facendo un paragone con il nostro vissuto e con le nostre convinzioni. E questa sicuramente Claudio non è un vero ascolto, quindi lo riapprofondiamo tra un momento dopo la pubblicità. E allora ascoltare gli altri è davvero una cosa molto difficile, ce lo stava spiegando bellissimo Claudio, mi interessava questo passo, io sto ascoltando te ma già penso alla risposta che ti dovrò dare, quindi non è un vero ascolto. Non è un vero ascolto perché in realtà se tu ci pensi, tutti noi vogliamo essere ascoltati, capiti, considerati, quindi quando qualcuno ci viene a raccontare le sue lamentele, le sue storie o veramente noi vogliamo ascoltare l'altra persona semplicemente mettendo da parte, cioè io Claudio mi metto completamente da parte, non devo pensare alla risposta che dovrei dare all'altro perché vogliamo imporre un qualcosa di nostro, per sintonizzarci all'altro noi dobbiamo fingere di essere come un, non so come dire, come il letto di un fiume ancora vuoto, quindi quello che poi diremo all'altra persona non dovrà, ma è una cosa non semplice, di solito noi andiamo per ragionamento, quindi l'altra persona ci parla che è andata male in francese sull'interrogazione di Napoleone, la parola Napoleone ci fa ritornare a quando siamo andati in vacanze in Francia, in Francia abbiamo litigato col proprio compagno, abbiamo perso il telefono, ci hanno rubato la macchina, è successo un patatrac, mi sono separato, ho perso tutto, quindi capisci che andiamo per associazione e non dobbiamo neanche avere la pretesa di dare un consiglio perché dobbiamo, per forza aiutare l'altro, quindi se qualcuno viene da noi e ci dice qualcosa perché vuole essere ascoltato, semplicemente siamo lì, se abbiamo qualcosa da dire che ci arriva, il famoso intuito, che non è detto che all'altra persona piaccia, perché spesso come sai quando andiamo a dire qualcosa che in realtà appartiene una verità ma che scomoda la mente, l'altra persona non gradisce, quindi noi è come se accontentiamo o diamo ragione, sì è vero, quindi assecondiamo le lamentele, assecondiamo i capricci della mente, quindi ascoltare è un allenamento. Un allenamento che va sicuramente acquisito, va acquisito come allenamento, è fondamentale, bisogna lavorarci tantissimo. Claudio, io mi stavo anche chiedendo una cosa, noi ci troviamo in contesti dove pullolano spesso narcisisti e anche protagonisti, persone che hanno veramente tanto bisogno di mettersi in mostra, ma non per dare un contributo, un valore aggiunto o per trasmettere un vero messaggio, semplicemente perché questo è il fine a sé stante. È una conseguenza di ciò di cui mi parlavi prima? Potrebbe esserlo? Guarda, come si suol dire, alcuni detti popolari racchiudono una grande verità, quindi tutto il mondo è paese, noi sappiamo benissimo che c'è una componente della mente, chiamiamola ego, che non si sente riconosciuta e quindi vuole affermare se stessa, ma non in maniera costruttiva, in maniera distruttiva. Quindi ci potrebbero essere mille esempi da un punto di vista artistico, tu sai, oggigiorno, no? Che anche l'invidia, quindi c'è quell'artista che è diventato famoso e guarda che scarpe si compra e guarda la borsa della compagna di quel cantante famoso e ci sono bambini che non possono mangiare, eccetera. Quindi qui sfociamo anche in un altro argomento che è quello poi del talento, della predisposizione, del proprio dono. È quello che è l'ego che va a distruggere anziché costruire, quindi mettersi in mostra alla fine cosa ti serve per sentirti riconosciuto che è un qualcosa che da bambino magari è sempre lì che si va poi a finire. È qualcosa che non ha percepito, non abbiamo percepito da bambini, quindi anche io avevo e tuttora ogni tanto l'abitudine o il vizio di voler fare delle battute a tutti i costi, di voler far ridere, perché magari vedo l'altro che ride e la mia testa dice guarda vedi come sono bravo, ah ti ho fatto ridere, quindi mi merito un posto accanto a te, sono strategie. Molte volte invece faccio delle battute, ovviamente senza un senso, quindi fanno ridere perché non hanno un senso, perché è un modo che ho per scaricare tensione, quindi c'è di mezzo l'ego alla fine. Tu hai realizzato dei film interessanti che a mio avviso hanno un significato fortemente simbolico e che bisogna forse anche saper interpretare, hanno un alto contenuto culturale, però significativo tu l'hai fatto per la gente chiaramente, riesci attraverso i tuoi film come anche attraverso i tuoi libri a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefisso, ce la facciamo? Allora, io ho realizzato un mi, anzi io, con l'aiuto del gruppo dell'ecovillaggio in cui vivo, che non sono solo, quindi grazie anche all'aiuto dei compagni di viaggio che ne fanno parte, abbiamo realizzato per la prima volta un sogno nel cassetto che era quello di fare un lungometraggio, che in realtà era nato l'idea un cortometraggio, perché nella mia testa ho detto, la sceneggiatura di un film, quanto deve durare, poi quello che è arrivato è arrivato perché c'era un messaggio, poi la vita si muove, spesso non ci è dato neanche capire, l'importante è portare avanti delle indicazioni, la vita si muove di conseguenza, oltre a questo primo lungometraggio che abbiamo realizzato, che poi si trova gratuitamente su YouTube, insieme anche ad Antonio Delia, che fa parte del gruppo di lavoro dell'albero della vita, della scuola di counseling, abbiamo realizzato dei documentari che riguardano temi come il funzionamento della mente, quello che è un mondo invisibile, quindi un mondo sottile della realtà, ciò che riguarda la parte spirituale dell'essere umano, come viviamo su due piani di realtà, e il filo conduttore ovviamente è quello di lanciare un messaggio, che non è ho realizzato un film, guardate come sono bravo, e vi dico che una parte del mio ego non vedeva l'ora, che dicessero wow guarda che bello, anche perché è una mia prima esperienza, con i mezzi a disposizione, quindi senza nessuna produzione, nessuno di noi era attore, quello che ne è uscito per me è importante, a livello tecnico sì ci può stare che non ho l'esperienza sul set di come chi lavora nel settore, però per quello che ne è uscito e per il messaggio che volevamo dare, la cosa importante è proprio il succo, cioè il travaglio psicologico che attraversa ogni essere umano, volente o nolente, nel momento in cui arriva un periodo proprio come quello che stiamo vivendo, in cui la mente viene messa alle strette, l'umanità viene messa davanti ad una scelta, e la cosa fondamentale è imparare a capire chi siamo, sembra una cosa la Gigi Marzullo, dove stiamo andando e qual è la direzione da prendere, comprendere che noi non siamo soltanto una mente. Noi non siamo soltanto una mente, però ti fermo un attimo per la pubblicità e poi riprendiamo questo meraviglioso discorso. Claudio, dove stiamo andando, chi siamo, qual è la nostra meta? Me lo stai chiedendo o volevi aggiungere qualcosa? No, io me lo chiedo tutti i giorni perché non lo dico tanto per dire o perché deve essere una frase fatta, forse anche per deformazione professionale, perché entrambi comunque camminiamo un po' sulle stesse impronte, anche se in modo diverso, ma perché io credo che invece siano le domande che dobbiamo porci tutti, quando viviamo in maniera consapevole noi stessi, la nostra vita, credi che sia il caso dire che forse sarebbe sano staccarci da noi stessi soltanto per contemplarci, per guardarci dalla finestra di noi stessi? Allora, la parola staccarci direi di no, io direi di imparare a conoscere come siamo fatti, come funziona la nostra mente e soprattutto è una cosa che poi uno di base non ha, è come l'ateo, c'è l'ateo che dice io credo solo nella vita materiale, punto, siamo fatti di più parti, quindi è come se vivessimo una vita razionale, materiale, quindi sul piano fisico, poi c'è una controparte, se la vogliamo chiamare così energetica, che si muove sul piano sottile della realtà, il piano invisibile, solo che non ne siamo coscienti, non siamo stati educati a questo, e tutto ciò che noi crediamo di conoscere solo con i cinque sensi, ma neanche con le convinzioni, alla fine ci porta a morderci la code e a girare sempre sullo stesso isolato, perché noi alla fine siamo fatti di tre parti, una mente che corrisponde a tutto quello che può essere calcolare, agire, la parte pragmatica, l'azione, una parte animica che corrisponde all'anima, che corrisponde alla fine al vero io, che è l'energia, che è l'essenza, ora non so se si può parlare di vite precedenti, però alla fine uno lo può prendere come un racconto di fantascienza e ha ascoltato qualcosina, e poi c'è una parte spirituale, quella forza che ci guida, quindi il concetto alla fine se ci pensi di alcune tradizioni come la trinità, ritorna, mente, anima e spirito, dov'è il problema se lo vogliamo chiamare così? Che queste tre parti non sono allineate, noi ci crediamo, tutte le volte che diciamo io, io faccio, io sono, io penso, io credo, io di qui o di là, noi ci stiamo riferendo alla mente, ma non solo, a tutto ciò che è stato immagazzinato, generalizzato, filtrato a delle idee, quindi se io credo di essere una vittima, o un carnefice, o che la colpa è degli altri, la colpa è del sistema, la colpa è di tutto quello che sta accadendo fuori, in tutto questo, qual è la responsabilità che io essere umano mi sto prendendo? Capire cosa sei chiamato a fare significa innanzitutto comprendere qual è la tua funzione, perché stai passeggiando sul pianeta, non stiamo passeggiando soltanto per trovare un lavoro, per avere le ferie, per andarcene in vacanza, per rilassarci, distrarci, questo periodo ci ha fatto comprendere che stavamo inseguendo un sistema fatto di stereotipi, di un modo per tenerci alla fine ingabbiati in una sorta di spazio, nel paese dei balocchi, la storia di Pinocchio dice tutto, c'è il gatto e la volpe, c'è la fatina, c'è Pinocchio che diventa bambino, cioè cerca di comprendere alla fine qual è la strada per diventare il vero se stesso, perché ognuno di noi nasce per portare avanti un compito, non è che nasce che ne so io faccio l'operaio non posso fare altro, non è vero, perché abbiamo paura di fare le scelte, abbiamo paura di affidarci a qualcosa che la mente dice non vedo, non credo, non sento, ma la vita è una forza intelligente, il chiedi e ti sarà dato ha il suo senso in tutto questo, perché se io mi affido a ciò che ho vissuto in passato avrò paura che questa cosa qui si rimaterializzi in un futuro prossimo, quindi non è vero che noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo, se non lo conosci di che cosa hai paura? Noi abbiamo paura di ciò che già conosciamo, perché abbiamo un'idea mi piace non mi piace, questo mi piace non mi piace, nella tua vita avrà dei parametri, a me piace un gelato alla fragola, a te piace il pistacchio, a me piace andare in montagna, a te piace andare al mare, è questo che crea la sofferenza, il mi piace e non mi piace, il bello e il brutto, ma se una mamma che ha un piccolo di un mese, quindi ha appena partorito, ha un bambino, un figlio di pochi giorni e deve dare la poppata, lo deve allattare durante la notte, ogni due tre ore, lì non c'è il mi piace e il non mi piace, in pratica la trasformazione è passare a ciò che va fatto perché rientra nella tua responsabilità, quindi io non posso dire che palle e sta piangendo e di nuovo gli devo dare il latte, non ha senso, è qualcosa che va fatto perché noi non vogliamo prenderci la responsabilità e vogliamo vivere eternamente in una giornata di pasquetta, non so come dirti, di eterna adolescenza. Tra poco torniamo sul concetto della sofferenza perché questo mi interessa tantissimo. Claudio, prima tu mi parlavi di superamento della sofferenza, delle motivazioni per cui le persone soffrono, ma questo dolore va arginato o va anche attraversato? Perché io credo che la sofferenza sia anche portatrice di cose importanti, credo che attraverso questa esperienza che non va scansata o semplicemente superata, ma compresa, ci possano essere dei presupposti invece che possano darci la possibilità di essere perfino felici. Tutti gli esseri umani fuggono da ciò che loro credono, gli arrechi, dolore o sofferenza, quindi ciò che non piace, e inseguono sistematicamente, ma soprattutto da un punto di vista emotivo, sempre emozionale, ciò che pensano possa portare felicità. Sono due idee, quindi noi abbiamo un'idea di felicità che deriva da qualcosa che non è accaduto, che non abbiamo ricevuto dal nostro passato, è un'idea di malessere, di sofferenza, ma se io attiro delle situazioni è una multa, il partner che mi lascia, perdo il lavoro, una malattia, e soprattutto ora, cioè tu mi capisci, situazioni che si ripetono con personaggi diversi, modalità che sembrano diverse, ma sono sempre le stesse situazioni. La vita ci sta dicendo che dobbiamo guardare in faccia la realtà dei fatti, perché io, è un esempio, sto idealizzando la mia compagna, il mio compagno, tutte le volte ti faccio l'esempio della donna, trovo tutti uomini che mi tradiscono, che mi trattano male, che all'inizio sembrano tutto questo fuoco, questa passione, poi mi ritrovo a essere lasciata. Cosa stai idealizzando? Cosa hai assorbito dalla tua infanzia? Com'era il tuo rapporto con papà? Queste sono le domande. Non puoi cambiare l'esterno pensando che tutto si risolva. È brutto questo termine, non volevo dire aggiustando l'interno, ma comprendendo come mi muovo all'interno, allora scoprendo la causa posso modificare l'effetto. Causa, conseguenza. Quindi tutto quello che attiriamo, la mente lo vede come una sofferenza, la vita ti sta dicendo cosa non vuoi guardare, c'è un salto che devi fare. Il lavoro, ad esempio, in questo periodo l'assenza di lavoro, il denaro, è un esempio, appartiene all'energia del maschile, del papà. Il papà magari non c'era, il papà era poco presente, il papà non ha dato nessun esempio di un'azione, quindi un bambino senza l'esempio di un'azione come si troverà? Ho il femminile, la mamma che rappresenta l'accoglienza, il nutrimento. Il punto di partenza è comprendere io cosa ho idealizzato sulla vita, perché la felicità non è assenza di problemi, è un'utopia ma non è neanche un'utopia, è una fantasia, è un'illusione, e quello che facciamo noi è scappare per cercare illusioni. Quindi la coppietta felice, il lavoro dei sogni, non significa che non mi debba piacere quello che faccio, ma che dobbiamo smettere di cercare vie di fuga. Se una sedia è di legno, è di legno, non puoi piangere perché nella tua testa da bambino pensavi che tutte le sedie fossero di plastica. Quindi passare dall'adolescente all'adulto, che se ci pensi è una cosa che l'essere umano fa fatica, perché significa, e si ritorna sempre lì, al concetto di responsabilità. È la prima volta che rimango senza parole incantata nel sentirti parlare, perché sei al di là di quello che tu dici, anche il modo in cui lo dici che è accattivante, rassicurante, molto bello. Spero che tutto questo rassicuri anche te stesso, i tuoi limiti, le tue paure, le tue ombre. Sono ironica, eh? Quello che dico è perché di solito noi parliamo poco per esperienza e più per metterci in mostra. Le cose che di solito dico sono cose che ho visto e attraversato, perché dirle, cioè è come se io ti spiego come si costruisce un tavolo, ma non ne capisco niente. Sì, a livello tecnico ti può arrivare qualcosa, ma se io ci sono passato, io ti posso trasmettere. Bravo, era lì che volevo arrivare. È l'esperienza che uno deve trasmettere, delle idee, ah vorremmo, non vorremmo. Ok, tu come l'hai attraversata questa situazione? Quello è il punto, è trasmettere qualcosa che noi stiamo, anche se lo stiamo scoprendo, non esiste un traguardo. Ogni giorno che tu fai un salto e superi una soglia attraversi una porta in maniera simbolica, ti sta preparando a fare ancora un altro salto. È tutto in salita, non so come dire, non c'è un traguardo, non c'è la pensione spirituale. Certo, è un viaggio. Non c'è neanche quella normale in questo periodo, ma non c'è neanche quella spirituale. È un viaggio Claudio, è un lungo viaggio infinito, quindi io per questo viaggio ti ringrazio tantissimo, 30 minuti sono davvero pochi per affrontare temi di questo tipo, non si sa mai se un domani non ti riabbia piacevolmente qui nel mio programma, a parlare ancora di questi temi che sono fondamentali per la nostra vita. Story dal web vi dà appuntamento invece a martedì prossimo sempre alle 20.30.